Il Comune di Pordenone ha presentato il calendario delle attività culturali e museali programmate per il 2012, fornendo qualche anticipazione per il 2013. Due importanti mostre fotografiche e numerose altre esposizioni e iniziative legate alla scultura, al mosaico, al disegno, alla pittura, caratterizzeranno la nuova stagione museale di Pordenone. Il ricco programma è stato presentato all'ex convento di San Francesco, sede del settore cultura del Comune, dal sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti e illustrato dall'assessore alla cultura Claudio Cattarruzza. Gli eventi che caratterizzeranno questo 2012 sono la sfida della fotografia di una grande mostra dell'archivio personale di Italo Zanier, con le foto di grandissimi fotografi che hanno caratterizzato la scena nazionale e internazionale e oltre a questo ci sarà un'altra grande importante mostra fotografica antologica dei fotografi dell'ex Jugoslavia, un'operazione che per noi riveste anche un alto contenuto simbolico, uno perché collaboriamo con dei paesi che fanno parte della comunità europea e sono con termini ai nostri e inoltre perché per la prima volta mettiamo insieme artisti di tutte le nazionalità dell'ex Jugoslavia, dimostrando una volta di più che il linguaggio della cultura può superare anche le divisioni politiche. Altra importante mostra al Parco 1 sarà la mostra dedicata a Nanne Zavagno, una grande retrospettiva che ci dimostrerà un Zavagno inedito perché saranno prevalentemente esposti i disegni e quadri di questo importante artista friulano. Un'offerta che si fonda sulla valorizzazione degli spazi espositivi presenti in città, puntando a costruire relazioni con altri soggetti culturali, locali e nazionali, garantendo sempre la qualità delle proposte. Grazie a tutti.